Dal monte Canfaito, i grilli si sentono 25 aprile 2019, ore 17, 17.30, c'è un po' di vento, lì c'è la Piana, qui c'è il monte San Vicino, un posto meraviglioso, devo fare un video più lungo, ma sono degli amici, poi ci devono essere ripresi, poi c'è il vento, era pieno di gente, ma in questo punto qui un po' più sgombro, un po' più selvaggio, proseguendo qua, facendo il giro, si arriverebbe a Braccano, di Mattelica, passando per l'Avazia dei Roti, qui non c'è nessuno, tutti rimangono nella zona più picnic, eppure queste sono quelle più belle. Grazie per la visione, ti saluto!